Ragazzi, scusate se registro questo video ora, solo che sono stata al dopogresima e quindi sono tornato a casa alle 9 e mezzo e quindi lo registro ora e ragazzi, quanto fa a sognare questa Fiorentina? 3 a 0, 3 a 0 triplet del ciolito Simeone che vola a 13 in campionato, mamma mia, non ci posso credere, forza Viola. E quindi la lotta dell'Europa League è ancora in corso, veramente ragazzi, ho visto le lights, la partita non l'ho vista però ho visto le lights, veramente ragazzi, ce la siamo meritata e il Napoli raramente è stata pericolosa, quindi noi abbiamo tenuto molto bene la partita e abbiamo dominato noi, abbiamo stradominato noi e ce la siamo portata a casa, veramente grazie ragazzi per regalarci queste emozioni, grazie veramente perché oggi 3 a 0 al Napoli, benissimo abbiamo giocato, grazie veramente, queste partite le dovete fare più spesso perché veramente, sono veramente troppo contento e quindi ragazzi, ora dovremmo essere a meno 3, non ho sotto mano la classifica però dovremmo essere a meno 3 o meno 4, insomma qualcosa del genere della zona Europa League e quindi veramente ragazzi, c'è tanta area positiva, ripeto di Simeone, il primo gol ho visto le lights, il primo gol è stato abbastanza, non mi ricordo come è il primo gol, comunque mi pare abbastanza... vabbè comunque questo mi ricordo il secondo gol proprio da rapace d'aria e il terzo gol se ne va e poi tac, tiro angolato sul secondo palo, veramente grazie infinite per regalarci queste emozioni avanti così, avanti così, testa al... la prossima dovrebbe essere il Genoa, comunque manco in 3 partite, in queste 3 partite ci giochiamo tutto, ci giochiamo l'Europa League però se andiamo così, siamo veramente sparati, quindi se continuiamo con questa marcia, veramente, ragazzi, questa Fiorentina fa sognare, fa sognare il prossimo video è bella, complimenti davvero